e dai dopo di questo ancora uno abbiamo finito non manca ancora uno però dov'è non sopra dove cercarlo qui dall'altro non si vede quindi noi qua no dobbiamo andare di qua speriamo di trovarlo subito sta arrabbiatissimo forse da un'altra parte dove cavolo è le bollicine pure l'arcobaleno zuccheroso proprio non so dove è eccolo la forse è la quindi adesso l'ho visto devo andare avanti devo salire quindi almeno sto capendo un po' come orientarmi questo cos'è invece passa la sua abilità attiva abilità chi è? ah si può salire su forse è la non lascia qualcosa però ah no non può no era qui eccolo dove era accidenti i pretzel questo non lo sapevo lo portiamo da quello l'ha trovato almeno non l'avevo visto prima sto contentato bello dammi il mio premio su nuova abilità le proviamo di qua risalire stavolta andiamo su dobbiamo trovare il capo della sicurezza dobbiamo trovare il capo della sicurezza andiamo sempre più in alto dai sempre più in alto di qua devo essere lui? sì qui qui dentro no Sì, qualcuno è stato chiamato o qualcosa di più o qualcosa? Questo è l'admiral Candi Corda, voi landlubberi. Ho messo la mia squadra sull'alertale di Candi. Per quanto riguarda? Beh, questo è di una base di bisogno di sapere. E tu non. Non lo? Nei bisogno di sapere, te scurvii! E da che la Princesa Bubblegum è iniziato a tendi sui soggetti, con il suo amico Marceline, nessuna nuova dichiarazione di sapere, sarà presto a continuare. Eh? Penso che non ci vuole dire una squadra. Siamo interrogati il suo cuore. E mentre siamo arrivati, chiamolo se stia parlando come un salto, e stai parlando. C'è un'altra interrogazione. Siccome sono incazzato subito, c'è troppo pesante con lui. Che cosa sta succedendo qui, signor High Admiral? Stiamo cercando per gli Ice King che perdono il crown, ma i guardi non ci lasciano passare. Che ci dà? C'è un'altra interrogazione che si tratta di un'altra che si tratta di un'altra che si tratta di un'altra e si tratta di un'altra C'è un'altra cosa. Che cosa? Che non si tratta di più felice, meglio ci sogniamoci qui. subito arrabbiato no non ha funzionato quindi niente così e anche questo un piccolo pirata in vostra voce anche questo calcio, man, abbiamo questo mi piace, Adolio, voglio aiutare ma cosa c'è con tutti i pirati di questo? non ho capito è niente personale, capisci? ho bisogno di proteggere il Reino solo i candi potrebbero essere confiati adesso, i pirati hanno stato scoperto fuori dal bale di starboard eh, ragazzi, mio amico qui non capisce tutto questo spettacolo help us out, cosa succede? non ho capito non ho capito nessuno che arriva per un po' capisci, lo capisci? per combattere un pirata devi pensare come un pirata io ho visto quelli patrullando le piazze per il Reino quindi ho riuscito l'alarmamento non sono un pirata non lo siamo non siamo pirati non c'è niente che amiamo più che un pirata, certo, Jake? non puoi tricare un aderrole sui luci non c'è niente pirata forse l'abbiamo convinto ancora no arrabbiato, dai no ancora vecchia testatura no, ma non volevo fare questo però no, no da veloce va la parola è la parola la parola data la parola mantenuta grazie grazie dolci botto la fine l'abbiamo convinto trova Marceline ora non ci attaccano più le guardie forse, no? ci guardano in modo normale almeno bisogna trovarla però mi butto qui di sotto caliamoci dai ok, hop un saltarellino hop voilà ma quella è una nave? è sulla nave? è qui? ah no, qui è lei eccola lì c'è dei tagli senza audio non sono proprio bene qualche piccolo bug non manca mai non si può muovere quindi restituisci il cappello di Marcy eccolo lì vedete come lo si prende però è hop hop ah beh è lì no, ho sbagliato no, mi sa che di qui non si raggiunge di qui riesco a saltare sulla riesco a saltare sulla barca? no, non ce la fa io ho capito sì, ma come lo raggiungo di di giù? come si va là? ah ma si è spostato non è più lì cambiato posto non si è sempre lì però ah, spacco qui giusto ah, si può spingere dai, forza, forza ah, mi viene fame vedendo queste cose allora allora allora, un'altra missione secondaria cos'è? sì, che mi da più utenzialmente prima la missione secondaria mi sono davvero mi sono davvero che sei qui ho cercato di ottenere questa gianca e ridurare di qualche di acqua ma le controlli sono scopate potresti mi potresti? allo il corso della 3 il nostro amore il nostro non è la stracione il si non è non è la è che è che è è che ci è che che Non è complicato, Jake. Dobbiamo avere BMO per aiutare. Lo posso rompere? No. No, lo rompe. Ah! Ma direi che non funziona. Non so come risolverla questa qui adesso. Proverò più avanti. Però non posso fare una mazza. Eh, ma come? Non ci riesco. Non so come aiutarti, amico. Almeno trovo qualcosa da... per curarmi. Qui c'è il cappello. Oh yeah! Le guardie. Problema. Potrò andare o creeranno casino? Mi diranno qualcosa probabilmente. Ci provo però. No, è caduto. Fuga. 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 Fuga rapida. Il più velocemente possibile. Fuga rapida. Ma è caduto. Ma è caduto. Ma sono di nuovo qui? LK dove è rimasto? Allora. Allora. No, ci sono di nuovo... Scusate. 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 Non posso fare i controlli. Scusate. No, mi riporta qui. Non è giusto però. Ah, però è là almeno la cosa. Scusate. Oh, tol. Mi ha fregato. Se loro camminano... Devono saltare. Possono levitare. Ho imparato la tecnica della levitazione. Scusate. Raggiungi il guardiano porta gomme. Dove sta? Ah, abbiamo un nuovo personaggio quindi. Allora giù. Ma lei vola. Ma però cade giù. Ma adesso voglio combattere a sto punto. Rivedere un po' con la... La sua strategia di lei. Vediamo se fa dei bei danni. Attacco fisico. No. Che tipo di attacchi speciali lei? Lascia infiammata. Bene. Ah, quattro addirittura. Vediamo un po'. Cavolo. Fa dei bei danni. Non mi spingare. Non so se si può fare. Oh, ma ne si può fare. Oh, ma no. operso. Sì. Non si può fare. La mia sospatica. Vi sentite la mia sospatica. veri lei. Mano male che non l'ha seccata. È un attacco talmente scarso lui. Qua c'è la bella potente. Quell'ascia fa dei badani. e is how it's done se conviene curarle un maio comiene curar a la e almeno e wallah puoi aiutarlo te o non puoi anche lei può fare niente non so minimamente come risolvere non si può risolvere non mi fai nemmeno un po' di paura amico li puoi aprire quanto della raccolta non lo dici non ho paura c'è lei attacchiamo prima il più scarso non c'è temerci sugli altri tanto quello infuocato non ha preso fuoco però devo levarlo a piedi olor nooo non 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 proviamolo, vediamo che cosa fa 107 prova il tappeto tieni ah, livello 3 si è potenziato al nostro film era pure uno scontro obbligatorio senza sottotitoli non ci sono portiere raggiungi la foresta malvagia 2400 è bello lontano la foresta si potrà uscire di qui o no? ah si si infatti adesso abbiamo un bel po' di soldi quindi dovrei potenziarci allora manca te va te soprattutto te che ce l'attacco buono ragazza te lo metto al massimo manca te va voilà poi voglio belli pimpanti guarda sta cosa che roba un'altra missione secondaria ma non so che cos'è ma marceline sono felice che sei ok ma alcuni dei bambini ancora si sono perdita spero che non si sono troppo scopi perché beh sai se vedete se vedete quando sei fu al luogo potete poterle portare e lavare le porti e le porti grazie posso provare provo se li vedo però non ho la più palida idea di dove siano un cannone prima di azionare il cannone è bello raccogli cosa? non ho visto niente c'è qualcuno qui? eccolo qui il kraken ho buttato giù raccogli tutto raccogli tutto snack money e la musichetta c'è sempre quella che non manca mai ma non è di lì che devo andare devo raggiungere la foresta o ancora fungo valenoso dov'è? è lì fungo ti diamo il ben servito mi sa che di là la foresta c'è tutti sti rovetili sti cosi un posto bellissimo ok ok posto un po' del brutto andiamo di qua diventa sempre più cupo direi che è questo il posto direi che è questo il posto un po' del brutto un po' del brutto un po' del brutto è